abbiamo abbiamo una nuova estrazione abbiamo una nuova estrazione che si chiama crossfade crossfade vediamola un po sembra interessante sembra interessante allora cosa si vince questa nuova estrazione si può vincere una granata imp si può vincere un auto da rally guardate un po che tema che tema fantastico però la mimetica diciamo è molto statica si può vincere un macete col nome autotune si può vincere un paracadute chiamato 150 bpm si può vincere un qxr con mimetica in movimento abbastanza carino si può vincere un j358 sempre chiamato bpm è una pistola con mimetica in movimento si può vincere un biglietto da visita chiamato alla console e poi abbiamo tre cose interessanti l'emote in cui il personaggio balla fa la capoeira come potete vedere questo è il ballo della capoeira oppure si può vincere un personaggio nuovo chiamato sirena buongiorno a tutti sirena sinestesia molto futuristico come personaggio non è male oppure si può vincere un'arma leggendaria che è un dlq 33 chiamato bassi profondi guardate che bella quest'arma quando uccide il nemico crea un effetto come se fosse un effetto un effetto un effetto discoteca ragazzi un effetto discoteca dopo che fisco l'estrazione risponderò a tutte le vostre domande abbiate un po di pazienza soltanto un po di pazienza allora io farò soltanto un'estrazione di 30 cp perché ho deciso di fare così c'è chi ha scritto che vincerò la granata im p e probabilmente vincerò la cosa più brutta però non si sa non si sa mai e allora sto per fare questa estrazione 5 4 speriamo che mi portate fortuna poi leggo i vostri messaggi rispondere vostri messaggi 5 4 3 2 1 tutto tutto Grazie.